La vera storia del Feuercraft Team Tanto tempo fa, in una terra lontana, un grassone e un omino convinto seguivano la facoltà di ingegneria Tra due fu amore a prima vista, tant'è che decisero di seguire le lezioni utilizzando le loro carte di magic per prendere appunti Un giorno, mentre gironzolava per marchiare il territorio, Dardilus trovò un desa selvatico a vomitare i sui muri sul reto della facoltà E decise di adottarlo sia per pena che per una strana attrazione ormonale Fu così che i tre intrapresero la decisione, assolutamente ponderata e indipendente da agenti esterni Di passare dalla vetusta facoltà ingegneristica alla più frizzantina facoltà informatica Qui i tre, seguendo le lezioni come e più di prima Stavolta con nuovi potenti mezzi messi a disposizione della nuova facoltà Giunsero alla logica conclusione di aprire un proprio canale di casting sul quale poter parlare del loro videogioco preferito Ovvero, Star Trek A questo punto, però, il primo grande problema da valicare era sicuramente quello di decidere quale nome appuipare al canale stesso I tre cavalieri del degrado intrapresero le più impervie soluzioni scientifiche di marketing avanzato Per selezionare il nome più appropriato, senza però avere successo Fu così che il buon Feuerbach, in un momento di vero altruismo espresso della propria persona Pensò bene di registrare il canale con il nome di Just Feuerbach Dopo un ultimo momento di riflessione, accompagnato da sganassoni e calci fulminanti Il nome fu aggiustato nel Feuerbach Che tutti abbiamo imparato ad amare ed apprezzare Nostro malgrado Fine Allora, un po' di 30 secondi 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 Prova audio Mangio a San Montana Che poi non è San Montana E' una macca di me, tipo Sammonbesci Aspetta 3 2 No Però non mi ha aperto il coso, io ho anche detto due volte E anche fraps Sarifa E' pronto Allora Saga a tutti Cosa serve questo sito? Per spiegarvi come funziona il nuovo Eh, non ho sbagliato Facciamo una prova audio Ma chi se ne frega? Prova pene Che come se lo rosso? Ma siamo matti eh? Ma le magliette non ce le mettiamo, perché ce le mangiamo? Ma giusto le magliette Però ce le in macchina, non lo voglio, chi se ne frega? Eh, niente le magliette Se era vanilla Ora è un cerbero Evviva In realtà è una cerbera È un fiore Sboccia Guarda che bello che sei sti con le ali Con le... Aiaaaah Fammi un po' schifo Non sto frussando, perché? Dio Cristo No, che dico Sei un pezzo di merda Sei un pezzo di stronzo Veramente Ormai finisci Cosa? Ma sai tutto il coso Tutta la spiegazione del mazzo Facciamo questa prova audio Ciao a tutti Benvenuti in un altro episodio di Checco 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 Ventura per Erzo Naxramas Larrata da Taliesin Ascoltata da Dartilus E lui non è invece nuovo da Esamble No, io non voglio ascoltarlo Hai sentito, signor Bigolo? C'è una gran confusione lì fuori Miau Intrusi, intrusi ovunque Chi ha lasciato la porta aperta? La mia valedizione mi colpirà mortale Svegliate il mio esercito di non morti Portatemi quel mio cappello imponente Ora le cose si fanno interessanti Signor Bigolo Hai visto il mio mazzo di carte? Miau Eccolo Grazie signor Bigolo Chi è un bravo mizzo? Chi è? E ora preparatevi ad affrontare i servitori del grande Archie Leech Che è il Tuzad Vi scatenerò contro poteri oltre ogni vostra immaginazione Miau E buonasera Benvenuti al nuovo episodio di Heroes of the Storm Stasera parliamo di Nova Un assassin di questo bellissimo gioco molto bello In cui stasera vedo che Una piena Non c'è un'allineamento delle stelle Perché le cogne queste? Ci sono le ricantropi Ci sono sì Dai non si può farlo Il fenomeno di un sferico Mi rifiuto Dai Ale non si può No è così Non prendo cazzo Con le magliette noi Vai Ssshh Oh Ma perché c'è già detto? Sta facendo le prove No Canta? No Quindi non c'è nulla Faccio Ma perché c'è già detto? Ma perché c'è già detto? Qui c'è già detto? Ma perché c'è già detto? Que qualcosa c'è nel кipare Hier Oh Baby Baby Mi L Ye Ma perché faya No, 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 because A mia loneliness Is killing me And I I must confess I'll see you and believe When I'm not with you I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time Aposto Che sera esta community? e a proposito di un nuovo inizio sentite questa condividete mettete mi piace e commentate questo Dio Cristo di una notizia